buongiorno a tutti con questa iniziativa con questo evento si inaugura una nuova forma di scusate si inaugurano una nuova forma all'interno delle manifestazioni del fiorenzo film per frenzo sera film festival una nuova forma che appunto la forma convegno intorno a un tema al tema prescelto per questa edizione come elemento orientativo non mi dilungherò in preamboli e cercherò anche per la consistenza dei relatori di passare subito ai saluti istituzionali non vedo in sala il diciamo il nostro colui che ci accoglie il dottor stefano visconti per cui cedere la parola al al presidente dell'istituzione che promuove questo convegno e questa manifestazione il dottor alberto giannuzzelli grazie a tutti benvenuti e soprattutto grazie a chi ha voluto e ha fatto questa questa manifestazione io incidentalmente sono qui a sassare ne ho approfittato immediatamente per essere presente e ogni volta che arrivo ogni volta che vedo l'operato dei nostri collaboratori scopro sempre qualcosa di nuovo io sono un appassionato di ferenzo serra piuttosto che di simon mossa e ogni volta scopro che delle facce nuove dei momenti nuovi un qualcosa di nuovo oggi scopre oggi scopro ieri ho scoperto quando ho visto il tema di questo convegno ho scoperto l'impegno l'impegno legato all'acqua che non ipotizzavo neanche io lo conoscevo come un antropologo eh visuale legato alla terra invece lo lo vedo sotto tutta da quest'altro quest'altro aspetto quindi mi godrò mi godrò quel quello che direte eh devo però ringraziare i collaboratori della società umanitaria i centri di servizio di di cagliari di cagliari di carbonia di di Alghero e di Sassari che rinverdiscono ogni ogni anno non perdono occasione per rinverdire la memoria storica la memoria storica della Sardegna e evidenziarla e portarla portarla al grande pubblico perché solo attraverso questo solo riscoprendo le nostre radici molto probabilmente potremmo guardare un futuro in un momento in un modo migliore grazie e buon lavoro a tutti grazie presidente ora la scaletta degli interventi istituzionali dei saluti prevede il l'intervento del presidente della Cineteca Sarda Antonello Zanda prego grazie grazie a voi tutti puntualizzo su un direttore non presidente tanto per essere così precisi no un ringraziamento io mi associo ai saluti del dottor Alberto Iannuzelli che ha sottolineato l'impegno dei nostri centri in questo lavoro io aggiungo a quanto ho detto oltre a ringraziare ovviamente le istituzioni che ogni anno collabora con la società umanitaria per la realizzazione di questo importante festival quindi la Cama di Commercio l'Università di Sassani insomma sono veramente tante le istituzioni che come tradizione dell'umanitaria riusciamo a coinvolgere in un evento collettivo volevo sottolineare il fatto che la Cineteca Sarda c'è questo progetto che abbiamo iniziato negli anni 60 dentro la società umanitaria per ricostruire e io direi anche costruire la memoria storica audiovisiva della Sardegna parte e ha la sua colonna vertebrale nella figura di Fiorenzo Serra perché Fiorenzo Serra è stato il centro intorno cui e noi sostanzialmente abbiamo elaborato tutto il lavoro di ricerca è stato il primo autore su cui noi abbiamo investito e abbiamo lavorato per poterne restituire la figura ma in realtà poi restituendo la figura di Fiorenzo Serra non facciamo altro che aprire la finestra e far entrare dentro la storia della Sardegna e tutti coloro che sostanzialmente hanno lavorato e hanno collaborato nella costruzione di questa enciclopedia audiovisiva della Sardegna ecco la Cineteca Sarda da che ha iniziato a lavorare intorno all'audiovisivo ha visto in Fiorenzo Serra una figura centrale ed è questa una ragione per cui noi a Sassari appena è stato possibile abbiamo appena abbiamo costruito il laboratorio di antropologia visuale abbiamo pensato che la cosa migliore per poter rinnovare no l'importanza sottolineare l'importanza del lavoro di Fiorenzo Serra e sottolineare anche la prospettiva di di Fiorenza fosse quello di realizzare un evento annuale che ci desse l'opportunità ogni anno di monitorare il nostro lavoro il nostro lavoro di ricerca e di promozione della cultura cinematografica e della cultura della formazione dell'educazione che è centrale nel lavoro della società umanitaria quindi io ringrazio tutti non mi dilungo proprio perché ci sono molti relatori e credo che sia molto più interessante e importante sentire l'approfondimento fatto da loro e che ci aiuteranno in questo lavoro appunto di ricerca continuo intorno al lavoro di Fiorenzo volevo l'ultima sottolineata e ringraziare ovviamente anche gli eredi di Antonio Simon Mossa perché insieme a Fiorenzo Serra noi abbiamo costruito una sorta di parterre intellettuale culturale di cui Antonio Simon Mossa sostanzialmente fa parte integrale ed è per questo che dentro il Fiorenzo Serra Film Festival fin dall'inizio noi abbiamo voluto affiancare un riconoscimento particolare periodico annuale anche alla figura di Antonio Simon Mossa grazie grazie Antonello è previsto il intervento introduttivo di saluto di Simonetta Serra della famiglia figlia di Fiorenzo prego grazie innanzitutto voglio soprattutto ringraziare sia il laboratorio di antropologia visuale con tutte le persone che si sono spese e la società umanitaria che insieme al laboratorio di antropologia permette rinnovarsi di questa di questo evento di questa cosa speciale che il ripetersi del festival dedicato a mio padre mi è stato chiesto di dire due parole prima che parlino gli specialisti diciamo che sapranno illustrare i vari aspetti da un punto di vista tecnico e intellettuale della figura di mio padre ma mi è stato chiesto di dire di spendere due parole sul sul Fiorenzo Serra privato su quello che è stato averlo come come genitore quando mi è stato detto che questa cosa era nasceva anche dalla dalla celebrazione dei cent'anni della sua nascita ho cominciato a pensare a cosa significano per me privatamente pensare che cent'anni fa mio padre nasceva a Porto Torres e mi sono ricordata di qualcosa che mi era stato detto dalla mia nonna Vittorina la mamma di Fiorenzo io ho passato e l'ho scritto forse da qualche parte buona parte della mia infanzia e della e dell'adolescenza nel tormentare le mie nonne che peraltro si prestavano abbastanza essendo delle persone molto portate alla narrazione nella richiesta di storie che hanno poi costituito un po tutta l'area della della memoria personale della mia famiglia un racconto in particolare della nonna Vittorina riguardava non è così importante abbastanza secondario ma mi è venuto in mente adesso che parliamo di cent'anni che riguardava proprio la nascita di questo suo secondo figlio la nonna si trovava insieme al marito che lavorava in quel periodo a Porto Torres questo il motivo per cui mio padre nacque a Porto Torres nell'imminenza un po del del parto era molto preoccupata perché il precedente parto quello che di original al mio zio Nando era stato terribile le raccontava o giorni di travaglio aveva creduto di morire eccetera quindi era preoccupata che questo anche questo secondo parto fosse altrettanto disagiato e difficile ma rivolgendosi a una sua vicina nei racconti delle nonne le vicine sagge si sprecano seguì il consiglio che questa signora gli diede cioè camminare a piedi sino a recarsi alla spiaggia non so lei mi ricordava il nome marinella non so bene fare il bagno era settembre quindi probabilmente ancora questo era possibile rientrare a casa a piedi e questo la nonna fece e la sera stessa si mise in travaglio e fu un comparto assolutamente tranquillo sereno che come dire e se in qualche modo ecco il mio pensiero è questo se in qualche modo il modo di venire al mondo è prefigurazione un pochino del carattere di chi viene al mondo e come ex neonatologa e come pediatra attuale tendo un pochino a crederlo effettivamente questa nascita benigna di mio padre in qualche modo prefigura anche la sua la sua il suo carattere carattere che ritorna quasi nello stesso modo in una poesia che lui scrisse ovviamente alcuni anni più tardi ma quando era ancora molto giovane la poesia recita più o meno così non che io rida in disprezzo in me c'è il buono saggio amore della vita in questo mondo di altrui fatti e pensieri ospite sono e la cheta ironia è la mia presenza c'è tutto mio padre in questo c'è la bontà c'è la saggezza c'è la infinita curiosità per la vita ma non la curiosità di chi vuole possederla ma la curiosità di chi si sente ospite e io credo che questo sia lo sguardo dell'antropologo la capacità di sentirsi ospite e potere quindi osservare e studiare con estrema cautela con estremo rispetto effettivamente in questo senso io vedo già un pochino la prefigurazione e poi c'è la cheta ironia ma questa forse ritornerà anche ora un po più avanti sempre a proposito dei cento anni mi è capitato qualche mese fa di incontrare il figlio di un altro uomo illustre il suo purtroppo morto molto prematuramente che di mio padre fu grande amico e che con mio padre collaborò nella stesura del dell'ultimo pugno di terra erano dai tempi del liceo quindi non dico quanti anni ma tantissimi anni che io non vedevo questa persona ci siamo ritrovati abbiamo fatto due chiacchiere e nel salutarci lui mi disse abbiamo avuto dei padri ingombranti ovviamente lo diceva in senso positivo però è una cosa su cui ho provato a riflettere quanto è stato ingombrante avere fiorenzo serra come padre allora io credo che oggettivamente fosse ingombrante perché noi non saremmo qui a parlarne se non lo fosse stato ma soggettivamente come è stato per me allora è stato ingombrante io ci sono io ho ripercorso alcuni episodi forse in qualche altro momento ho parlato che costituiscono un pochino dei punti della mia vita con lui per esempio il fatto che quando ero bambina ma proprio bambina piccola ancora all'elementare io mi intrufolassi nel suo grande studio quando lui lavorava con quelli che io chiamavo i suoi amici lo studio era pervaso dal fumo allora non era così demonizzato come adesso sentivo parole anche complicate parole che forse chissà se capivo del tutto improvviserizzate discussioni però io stavo lì e nessuno mi ha mai mandato via mio padre mi guardava benignamente e gli amici di mio padre mi accettavano senza mai avere detto sei una bambina vai fuori eccetera ma anzi ogni tanto mi si rivolgevano non nella modalità con cui di solito ci si rivolge bambini ma chiedendo il mio parere su quello sugli argomenti che loro discutevano ovviamente io non credo di avere mai dato nessuna risposta però era il segno di questa benevolenza che io sentivo intorno a me solo più tardi ho capito che questi amici così strani e così particolari erano in realtà le menti più brillanti di quel periodo e persone che avevano fatto che hanno fatto delle riflessioni importantissime sulla sardegna per esempio insomma allora però non ero non ero ancora consapevole un altro ricordo è sempre era ingombrante mio padre quando viaggiavamo insieme e prima di partire e durante il viaggio studiava minutamente tutto quello che avremmo visto e ci contagiava nella sua enorme interesse e curiosità mettendo sullo stesso piano tutti gli aspetti cioè da quelli architettonici a quelli culturali a quelli puramente culinari cioè lui era capace di parlare di un buon cibo etnico magari utilizzando la profondità e la serietà che si sarebbe riservata a una poesia a un immortale e parlare di una poesia immortale conferendogli il sapore il gusto di un buon vino o di un buon cibo fu ingombrante quando mi confidò come se fosse una specie di segreto simonetta la più grande fortuna per un uomo è fare un mestiere che lo diverta io allora non ero più tanto bambina sapevo quanto il suo lavoro fosse impegnativo quanto fatica non solo intellettuale a volte anche fisica costasse correre con una cinepresa in spalla però lui lo chiamava divertimento quindi questa qui c'era forse la sua cheta ironia che chiamava appunto il proprio lavoro comunque divertimento mi fu ingombrante quando una delle pochissime volte in cui io lo vidi commosso scoprì che usavamo la musica di Haydn come sottofondo io lo usavo per studiare e lui lo usava per scrivere le sue infinite meticolosissime sceneggiature di ciò su cui lavorava e infine fu ingombrante quando io gli chiesi come mai si fosse occupato solo di documentari in realtà questa domanda gli fu anche rivolta nella bellissima monografia a cura di gianni olla e che è preceduta da una bella intervista a lui l'ultima domanda che gianni di fa è proprio su questo argomento siamo alla fine gli chiede ultima domanda perché non hai mai pensato di ritentare la strada del film a soggetto questa non è una domanda tanto strana perché effettivamente quando a Firenze sotto l'influsso e spinto proprio da dal suo amico Antonio Simon Mossa che lo iniziò al cinema che poi diventò per mio padre un mestiere ancora non era chiaro se per cinema si intendesse il cinema soggetto di cui hanno pure scritto alcune sceneggiature forse anche in parte girato questo non è ancora del tutto chiaro parte di questi film oppure forse il documentario comunque la domanda dice perché non hai mai pensato di ritentare la strada del film a soggetto e mio padre rispose è una domanda difficile probabilmente una volta intrapresa la strada dell'etnografia cinematografica sebbene organizzata spontaneamente ho avuto difficoltà a pensare la realtà in termini diversi certo il cinema di finzione mi piace ma per farlo occorre romanzare la realtà e questo mi ha sempre dato fastidio non ho la mentalità giusta o meglio non l'ho più avuta a partire dai miei primi film sulla sardegna forse è accaduto quello che racconta le vistrossi in alcune bellissime pagine di testi tropici una tendenza naturale a farsi affascinare da queste cose dall'immutabilità di certe tradizioni dal peso delle vecchie culture e un altro pezzo di mio padre questo e poi infine mi domando la la sua fine la sua morte fu ingombrante in realtà noi abbiamo ricevuto nella sua dalla sua morte un dono un regalo perché lui ci mostrò come sia possibile affrontare con laica consapevole consapevolissima serenità il proprio l'atto del morire tanto che a me in quell'occasione forse l'ho scritto anche da qualche parte credo che la descrizione di quello che ha del dono che noi abbiamo ricevuto sia contenuto in un libro bellissimo che raccomando a tutti se non avete paura del titolo che è modi di morire di ayona it in cui lei dice scopro che alcuni possono raccontare il loro coinvolgimento in una morte davvero speciale in cui il morente era riuscito a controllare e orchestrare il processo e a morire con una dignità e una serenità che avevano dato a chi gli stava accanto la sensazione che prendevi parte fosse un privilegio e una misteriosa forma di arricchimento e questo questo ultimo regalo mio padre ce lo fece per cui se è vero che tanta curiosità tanta attenzione tanta serietà tanta passione nel lavoro che mio padre ha messo non risultato non è mai risultato ingombrante per chi a questa a questa grandezza in qualche misura è stato vicino e per chi ha sentito che comunque in questa vicinanza poteva esprimere se stesso senza che mai ci fosse un peso e adesso voglio proprio concludere perché vi ho trattenuto anche troppo con una ancora un'altra piccola citazione questa volta è una frase di mia figlia l'ho trovata in un'intervista che l'è stata fatta forse da un giornale online a proposito di un suo progetto che è stato il girare col regista iraniano milan tangshir un documentario in vr all'interno del carcere delle vallette di torino quindi un'esperienza piuttosto al limite e valentina viene interrogata su come si fosse sentita quando avevano discusso insieme a milad del di questo proposito di questa cosa qui e lui e lei risponde lei dice che quando discutevano di questo di questo progetto cinematografico mi si sono schiuse mille porte nella mente ecco io l'augurio con cui finisco questa mia relazione che hai alle persone soprattutto alle persone più giovani che si avvicineranno al lavoro di mio padre possano davvero schiudersi mille porte nella mente grazie grazie simonetta io non ho dotti di critica cinematografica tali da stilare classifiche però mi pare di capire che che renzo serra dico da profano sia un punto di riferimento imprescindibile non tanto della cinematografia sarda ma credo del campo documentaristico mondiale non vedo la professoressa panizza in rappresentanza del dipartimento di storia scienze dell'uomo della formazione mi pare che arriva fra un poco vabbè in ogni caso c'è un ora della sua presenza e della sua amicizia il professor mastino e il professor alessandro soddu qua presenti prima di iniziare il corpo degli interventi simone liga si farà da introdurrà il tema è il la fase più pregnante del convegno grazie buongiorno a tutti il mio sarà un intervento brevissimo per parlarvi un attimo di questa edizione del fiorenzo serra film festival siamo arrivati alla quinta edizione come già si è detto abbiamo scelto la tematica dell'acqua che è una tematica molto importante negli studi etnografici perché attorno all'acqua ruota tutto e ovviamente gli studi etnografici sono orientati a anche a studiare questa tematica e le sue relazioni con la cultura ma l'abbiamo scelto anche perché come come diranno gli interventi successivi fiorenzo serra aveva un forte legame con l'acqua quello che hanno tutti gli isolani ma in fiorenzo serra si vede nei suoi lavori anche perché c'è una ci sono una lunga serie di lavori che proprio parlano dell'acqua dei lavori legati all'acqua questa edizione ha raccolto più di 500 iscrizioni come film non tutte le iscrizioni ovviamente sono a carattere tonografico una parte sono a te col tema specifico dell'acqua e la seconda parte sono fanno parte dalla sezione sempre etnografica però dedicata ad antonio simon mossa abbiamo fatto io il collega giosef un breve contributo video per riassumere tutti i film che sono stati presentati quindi prima di iniziare questa interessantissima conferenza dove abbiamo voluto coinvolgere non solo il dipartimento di cui facciamo parte ma anche il dipartimento dell'università a cui afferisce il nucleo ricerca desertificazione che una realtà importantissima dell'università di sassari l'università di cagliari con antioco floris francesco bacchis e la professoressa penna cini che per me personalmente un grande onore avere qui dell'università di torino che si occupa nello specifico di antropologia visuale che la disciplina che io ho sempre studiato grazie per essere qua e mandiamo ora il contributo video a Grazie a tutti 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 Grazie a tutti